Andiamo allora a vedere cosa sta succedendo in Slovacchia, un paese lontano all'interno dell'Unione Europea che ci parla però purtroppo con questa terribile storia di noi. La mafia fuori dal mio paese, la protesta cresce, cartelli come questo anche oggi accompagnano le migliaia di manifestanti tornati in piazza a Bratislava, chiedono verità e giustizia sulla morte di Jan Kusjak, il reporter slovacco ucciso una settimana fa insieme alla sua compagna. A quanto pare non bastano le dimissioni del ministro della Cultura, del segretario del Consiglio di Sicurezza e soprattutto di Maria Troscova, l'ex modella divenuto improvvisamente elemento di spicco della politica slovacca. Chi scende in piazza vuole sia fatta piena luce sui responsabili dell'agguato su un sistema corruttivo e su quei rapporti inconfessabili tra il governo e la criminalità organizzata. Per questo da giorni in tanti chiedono la caduta di altre teste come quella del capo della polizia Gaspar e del ministro dell'interno Kalinac, uno dei fondatori del partito del premio Robert Fizzo. Continueremo il lavoro di Jan, stiamo mettendo in piedi una redazione investigativa. Questa è la risposta della società editrice di Actuality, il sito su cui scriveva Kuzjak. Per quell'omicidio collegato in maniera chiara, secondo gli inquirenti, a un'inchiesta dello stesso giornalista sui presunti legami tra Andrangheta e politica a Bratislava, sette persone, tutte di origine calabrese, sono state arrestate ieri. Di loro, ha scritto Kuzjak, nella sua ultima inchiesta incompiuta che tratta degli affari dell'Andrangheta con i vertici del governo slovacco, di quei fiumi di denaro piovuti della comunità europea per incentivare l'agricoltura e che sarebbero in parte finiti nelle mani dei clan attraverso intimidazioni e corruzione, metodi che gli inquirenti italiani conoscono bene, tanto da avere a più riprese avvertiti i colleghi slovacchi raccontando di come l'Andrangheta abbia da anni messo radici nell'Est Europa. Bentornato Roberto Saviano! Grazie, grazie. Cosa ci dice questa storia? Perché ci parla di noi? È una storia davvero incredibile e drammatica, ma purtroppo non mi ha sorpreso. L'Est Europa è da sempre colonizzato dalle organizzazioni criminali italiane e la politica di diverse repubbliche dell'Est Europa è in rapporto diretto e pluridecennale con le organizzazioni criminali italiane. Dopo la caduta del muro di Berlino, le prime entità imprenditoriali occidentali che sono andate ad Est sono state Camorra, Drangheta, Cosa Nostra. Si sono legate diventando una sorta di stampella a quella che era una borghesia neonata nell'Est Europa dopo la caduta del muro e da lì hanno proseguito diventando una specie di agenzia che ha preso le imprese italiane e non solo e portate nell'Est Europa. Per intenderci, le aziende che dislocavano nell'Est e le proprie imprese, avevano bisogno di garanzie in paesi in cui il comunismo aveva distrutto sostanzialmente tutto, una burocrazia completamente collassata e non si sapeva neanche a chi riferirsi. Ebbene, le organizzazioni criminali italiane facevano da garanti, portavano le aziende lì per tutto il corso degli anni 90, anni 2000 e si interfacciavano alla politica. Questo omicidio è un omicidio che ci dice innanzitutto che le organizzazioni criminali italiane non si sentono ospiti o straniere in questi territori, ma anzi che quel territorio è diventato loro territorio. Il problema vero è che solo quando c'è sangue si discute di tutto questo e nemmeno perché in questa campagna elettorale mi aspettavo i leader potessero di tutte le parti politiche potessero concentrarsi sull'omicidio di questo ragazzo, 27 anni ammazzato nella sua stanza insieme alla sua fidanzata per aver raccontato anche di noi, anche del nostro paese. Invece in questa campagna elettorale non si è parlato di mafia mai, non si è parlato di riciclaggio mai, non si è parlato mai di cosa? Che il narcotraffico è la prima economia del nostro paese, incredibile, ma ormai dirlo sembra quasi parlare da un altro pianeta. Senti, ma dobbiamo fare anche un po' gli avvocati del diavolo, anzi non solo del diavolo, ma siamo proprio, non sono anche il parafulmine i sette italiani arrestati di una storia che ci racconta anche del potere slovacco, i rapporti erano direttamente con il governo di Bratislava. Assolutamente giusta riflessione, ti dirò di più, le modalità non sembrano neanche in coerenza con l'operatività militare delle endrine, entrare in una stanza, sparare alla testa a una donna, a una ragazza, sparare al petto al ragazzo, non è la tipica modalità con cui opera l'andrangheta. Può darsi che la velocità di esecuzione abbia costretto i killer ad agire in questo modo, può darsi che siano stati invece un gruppo slavo, infatti è tipica operatività delle organizzazioni criminali slave a essere delegato in questa terribile operazione. In verità lì la politica ha una responsabilità gigantesca, parliamoci chiaro, l'elenco, io ho provato a farlo stamattina in un mio articolo, ma l'elenco di latitanti mafiosi dagli anni 90 a oggi a Bratislava, a Praga, in Romania, in Polonia, in Bulgaria, in Albania, in Serbia, è infinito. Si va lì sapendo che non c'è il reato di associazione mafiosa, sapendo che la politica li considera imprenditori, portano danaro, tanto danaro. L'inchiesta di Jan Kuchak era un'inchiesta cristallina perché mostrava letteralmente una cinetica e cioè l'andrangheta arriva lì, porta una valanga di danaro liquido, si connette all'imprenditoria, spesso in prima persona, inizia a investire nell'agricoltura per gestirne i fondi europei, quei fondi europei diventano imprese, aziende, finanziamento politico. Quindi si risponde, beh ma sono imprenditori, beh ma qui non sparano, beh ma qui non portano cocaina. E spesso questa è la risposta, in molti casi addirittura sono arrivati a comprare titoli di Stato. Quindi questa incommunicabilità che si ha in quello che viene definito il Commonwealth tedesco, perché le mafie fanno sempre così, arrivano per esempio a Praga o arrivano a Varsavia e poi entrano in quella che è stata l'ex Germania Est. Ecco dicevo, in questo sistema si risponde sempre, qui non vengono a delinquere, sono problemi vostri, se ci chiedete di estradarli collaboriamo, cosa che a volte succede. Chiarissimo, ti ringrazio e fai bene a ricordare che uno dei problemi da Duisburg, la famosa strage d'agosto fino a oggi, la questione appunto resta che in molti paesi dell'area tedesca, del centro dell'est Europa non esiste il reato, non è adeguatamente perseguita l'associazione per delinquere di stampo mafioso, la criminalità organizzata in generale. I delitti vengono considerati singolarmente e questo impedisce di avere un contrasto adeguato e neanche una banca dati adeguata rispetto al contrasto di questi fenomeni. In un mondo ideale sarebbe bello che tu andassi a Bratislava a raccontare, chissà che non succeda, questa storia che è importante. Credo di farlo, credo di farlo anche perché, e chiudo con questo riferimento, siamo già due giornalisti in Europa ammazzati. A Malta, Caruana, Galizia è stata fatta saltare con un'autobomba. Sembra che i giornalisti possono essere difesi o ricordati o sostenuti soltanto dopo che siano stati ammazzati. Grazie, grazie.